Musica Il tuffo di oggi dallo stabilimento il Venezia con il comandante della polizia locale di Roma capitale Roberto Stefano Benvenuto, decimo gruppo mare e poi col vice comandante Giovanni Mancini Benvenuti, benvenuti davvero è un'occasione con voi che la famiglia Barbadoro rinnova in questo spazio dedicato proprio a voi perché si parla dei problemi concreti della città e di chi ci dà una mano a risolverli una mano grossa perché voi siete operativi 24 ore su 24 Allora comandante, un primo bilancio del suo periodo da quando è arrivata intanto le sensazioni su questo territorio proprio? Beh diciamo le sensazioni sono che sicuramente è un territorio vasto, complesso e che ha bisogno di molta presenza anche da parte nostra chiaramente noi ce la mettiamo tutta e soprattutto in questo periodo estivo dove aumentano le presenze dove ci sono più iniziative e ovviamente anche di carattere culturale, di carattere turistico e comunque c'è più presenza anche ovviamente essendo i mesi estivi quindi noi ci siamo rafforzati da questo punto di vista in questi mesi sia di giorno, sia di notte, sia nei giorni feriali, sia nei giorni festivi Rafforzati significa che finalmente avete più personale perché questa era una vecchia diatriba la richiesta di personale qui ad Ostia, già avviata la comandante Moretti Certo, in questo periodo chiaramente ci sono sia dei fondi ad hoc quindi dedicati per determinati servizi come possono essere quelli serali per la movida o per altri tipi di interventi poi ci siamo dedicati anche alla sicurezza stradale in particolar modo anche nelle ore serali, sabato sera e venerdì sera e quindi chiaramente con servizi autovelox, servizi etilometro e quindi posti di controllo di polizia stradale Però è abbastanza soddisfatto quindi di come sta procedendo e di come potete mettere le forze in campo? Sì, io penso che in questo primo periodo estivo sicuramente c'è stato un controllo maggiore penso che anche i cittadini se ne siano accorti, sia chi viene a Ostia e ovviamente soprattutto, ripeto, con particolare attenzione per i fini di settimana e per le ore serali e notturne Ecco, a proposito di controlli, Mancini, si è parlato molto dell'autovelox sulla Colombo anche lì che bilancio possiamo fare? I cittadini erano parecchio intimoriti insomma Questo è un progetto denominato Andate Piano che è su tutta Roma noi abbiamo in alcuni giorni prefissati questo autovelox sulla Colombo perché è la parte di competenza e abbiamo riscontrato, diciamo, nel giro di circa 15-20 giorni oltre 700 in frazione al codice stradale cioè oltre 700 automobilisti o moto che hanno superato il limite massimo che è di 80 km orari abbiamo riscontrato un picco di 177 ma comunque il picco non è mai sceso al di sotto degli 80 quindi sempre al di sopra dei 100 e quindi questi si vedranno raggiungere a casa con delle contravenzioni abbastanza salate poi siccome avviene nelle loro notturne quindi c'è anche una maggiorazione di un terzo quindi diciamo c'è chi rischia la sospensione della patente chi rischia una sanzione molto elevata Insomma, sentite Mancini, cosa si sentirebbe di dire a queste persone? Perché la percezione del cittadino, diciamo la verità insomma è quella quasi di rabbia, antipatia per l'autovelox però è ovvio che voi lo fate per un fine ottimo che è quello di ridurre gli incidenti di dire possibilità di farsi male proprio allora al di là di quello che andava a 180, 187 che veramente insomma lo possiamo dire vabbè, non dico parole ma insomma terribile ma agli altri cosa si sentirebbe di dire? No, guardi, tutte queste persone che vengono sicuramente vengono a Roma perché vanno in discoteca o vanno a divertirsi fare questo, divertirsi tranquillamente andare con altre persone se uno si sente poco bene fa guidare un'altra persona deve essere una vacanza non deve essere un sacrificio perché poi la strada è pure buia quindi succedono incidenti si possono qualsiasi cosa abbiamo una zona a rischio può uscire fuori qualche cinghiale qualche imprevisto insomma perché è successo nel passato quindi poi ripeto i neopatentati si raddoppia tutto i neopatentati quindi un ragazzo che poi magari si vede decurtare deve rifare gli esami della patente diventa un problema grosso diventa un problema insomma quindi ripeto venire ad Ossia non è una forma appunto di diciamo repressiva perché molti magari ci criticano è vero, la percezione è quella bisogna cambiarla diciamo che la maggior parte degli incidenti avvengono per il fattore umano quindi il fattore umano e anche la velocità è certo e questa operazione degli autoderox andrà avanti per tutta l'estate? andrà avanti per tutta l'estate sì abbiamo proprio dei giorni prefissati quindi specialmente il fine settimana quindi invitiamo soprattutto il fine settimana lo possiamo dire tranquillamente? sì ma poi è tutto segnalato quindi c'è una segnaletica sì c'è una segnaletica per il codice della strada anche qui le leggende dicono che non c'è segnale invece no 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 c'è l'inizio poi c'è tutta una normativa da seguire insomma quindi invitiamo perché qui chiaramente sono delle fasce di età tutti corrono in sostanza non è di ragazzo le calzette eccetera ecco questo emerge poi quando fate questi controlli che tutti corrono ed è la cosa peggiore insomma andiamo piano andiamo piano allora comandante invece con lei vorrei tornare sul tema del lungomare petonalizzato proprio sentendo la vostra voce quanto va impegnato quanto cambia la vostra estate che percezione avete anche dei cittadini noi per quanto ci riguarda è chiaro è un impegno giornaliero diciamo perché tutte le sere siamo impegnati a questo i barchi con quante persone? di solito sono dalle diciamo circa sette pattuglie di solito questo è l'impegno perché ci sono i barchi presidiati ovviamente con la collaborazione della protezione civile e dei volontari poi chiaramente nei fini di settimana c'è un po' più di presenza sia dovuto al fatto che abbiamo servizi ulteriori come vi ho detto prima sia di polizia stradale sia di polizia amministrativa questi anche interforze anche con le altre forze di polizia quindi polizia di stato arma di carabinieri e guardia di finanza però diciamo al di là di questo impegno che per noi ripeto ormai è diciamo giornaliero e quindi ormai è calendarizzato è chiaro che poi noi dobbiamo essere presenti anche su altri aspetti cioè non solo sul lungomare poi questa iniziativa chiaramente non è stata aiutata molto dal meteorologicamente parlando perché il tempo ancora è abbastanza incerto però adesso staremo a vedere ormai siamo al 10 luglio quindi ma poi va meglio perché lavorate un po' di meno diciamo la verità no? ma alla fine la stessa cosa no alla fine la stessa cosa perché anche al Varco bisogna stare ecco al Varco al Varco mi interessa questo episodi particolari gente che vuole entrare a tutti i costi ma oddio c'è gente che dice io non ho visto nulla perché le transenne servono a chiudere la strada cioè sì qualche domanda che non si sa bene se diciamo qualcuno che piove magari dalla luna non so insomma rientra nella normalità rientra nella norma non ci sono cose particolarmente strane insomma queste cose che succedono diciamo un po' dappertutto quando ci sono questi tipi diciamo di chiusure e invece se io le chiedessi la sua percezione ha visto questa iniziativa gradita dal pubblico o ha visto di più le proteste cosa sente dalla gente? c'è un po' l'uno e un po' l'altro ecco diciamo la verità quando ci sono delle novità è chiaro c'è chi le diciamo le accoglie favorevolmente qui dice ah meno male era ora potevano fare prima ecco altri che magari hanno più paura diciamo della novità o comunque l'accettano dopo un po' di tempo oppure si abituano quindi diciamo c'è un po' di tutto questo è un fenomeno diciamo chiacchiate dappertutto non è solo di ostia posso aggiungere per la chiusura del lungomare è un argomento che ci fa piacere adesso c'è una segnaletica abbastanza chiara il municipio ha investito quindi ha messo questa segnaletica quindi vorremmo sensibilizzare un po' i cittadini dalle 21 c'è la chiusura del lungomare quindi togliere queste macchie perché non è antipatico lì rimuovere fare contravvenzioni quindi gli animi si inaspiriscono quindi ormai la situazione è abbastanza chiara quindi sanno che voglio dire a quell'ora bisogna prenderne atto perché le rimozioni sono state numerose beh insomma più che rimozione abbiamo fatto molte molte contravenzioni prevenzioni prevenzioni quindi però lei dice i cittadini lo sanno devono portarsi di conseguenza al di là delle polemiche che possono rimanere è una realtà che dobbiamo provare prima di cambiare argomento vorrei intanto salutare gli ospiti perché oggi abbiamo ospiti voi e pubblico diciamo mister X diciamo però siamo contentissimi di avere il nostro pubblico e la famiglia Barbadoro che concede ogni anno questo spazio alla polizia locale del decimo gruppo è una cosa bella e la possibilità di comunicare tramite voi è il Tg dal mare che serve veramente a far dialogare istituzioni con i cittadini e in questo la famiglia Barbadoro è eccezionale lo possiamo sottolineare sicuramente senta invece parliamo un po' della Movida quest'anno com'è? sotto tono tutto sommato ad Ostia sul litorale ma per quello che riguarda i nostri controlli c'è una sinergia perfetta con le altre forze dell'ordine ci riuniamo quotidiano ogni settimana quindi stabiliamo gli obiettivi i correttivi da portare quindi per quello che riguarda il nostro servizio con le altre forze dell'ordine è perfetto certo non c'è quella Movida che c'era 3-4 anni fa che avevamo un lungomare intassato di auto eccetera c'è abbastanza differenza questo non lo so le cause quali sono queste magari sono problemi che riguardano le altre cose e quello riguarda noi voi avete predisposto il piano unitamente al dottor Franco al colonnello Adamo e al colonnello Gallone quindi ci siamo un po' e fino ad oggi come sta andando abbastanza bene inizialmente abbiamo dei ottimi risultati insomma quindi è più che altro come diceva il comandante è un'opera di prevenzione certo per fortuna non ci sono stati episodi clamorosi al momento no non ci sono risse roba varia che erano negli anni passati e il fenomeno invece che era segnalato ogni estate con le macchine distrutte vetri rotti è in diminuzione beh diciamo che sono tre sabbi tre venerdì ancora non c'è un problema che non forse più di giorno che di notte noi abbiamo notizia di un episodio isolato ma ripeto penso che sia veramente diciamo minimo beh certo se è un episodio è molto diverso da quello che era invece un allarme vera e proprio come anche i controlli con l'edilometro insomma non abbiamo riscontrato al momento nessun anche quelli insomma non hanno dato in diminuzione sì fortunatamente penso che tutti questi diciamo interventi queste azioni la prevenzione famosa mirate penso che diano dei frutti anche perché abbiamo visto che i dati statistici dimostrano effettivamente un calo fortunatamente sia degli incidenti mortali gravi sia anche delle denunce per quanto riguarda la guida in stato di ebrezza quindi fortunatamente insomma mi sembra che stiamo andando sulla buona strada meno male e invece un fenomeno che abbiamo affrontato recentemente anche in un servizio dove vi abbiamo seguito proprio all'opera è quello dei parcheggiatori abusivi che mi sembra sia sempre sentito nel nostro territorio da questo punto di vista comandante che novità ci sono? Parcheggiatori abusivi sinceramente è un fenomeno effettivamente che non è in particolare regresso nel senso che dove c'è questo bisogno diciamo di parcheggiare chiaramente il parcheggiatore abusivo si inserisce questo capita la sera quando ci sono luoghi affollati capita di giorno magari ecco sulla Litorania dove c'è tanta gente magari che va al mare e allora c'è questo fenomeno ora noi stiamo cercando inizialmente appunto di concentrarci sulla zona più diciamo più vive di movita dopodiché stiamo cercando di organizzare dei servizi mirati anche insieme ad altre forze dell'ordine per debellare ma comunque per far diminuire di molto questo fenomeno anche perché effettivamente non è di facilissima soluzione si vede perché poi in realtà insomma vedo che intervenite molto però non si riesce a debellare anche perché al di là delle sanzioni amministrative proprio a monte di grosso diciamo che le sanzioni amministrative quelle sono previste non bastano sicuramente non bastano perché purtroppo non sono un deterrente potente anche perché queste sanzioni o almeno così risolutivo non vengono percepite incisive dalla persona che le riceve non pagate diciamolo papale papale anche se devo fare i complimenti al vicecomandante che abbiamo visto proprio nel nostro servizio complimenti con che piglio che forza che volontà che tenacia complimenti no no glielo dico veramente perché ci ha colpito molto vederla all'opera lo fanno quotidianamente essenzialmente sulla Litorania durante il periodo si concentrano là sì perché altro però ricordo è un peccato che non si riesca a vincere definitivamente senta comandante cambierebbe? cioè voglio dire tornerebbe da dove è venuto come lavoro? io penso che bisogna sempre guardare avanti e quindi si deve andare avanti e quando è il momento di cambiare si cambia una risposta questa è politica direi quasi però insomma mi sembra che si è trovato bene ad Ostia è così sì ma senz'altro sia come gruppo come colleghi come ambiente poi il fatto che si deve lavorare molto diciamo è una cosa positiva non è una cosa negativa per cui non è non spaventa assolutamente non deve spaventare anche se ovviamente la vostra carriera guarda avanti eh vabbè tanto si sa noi dobbiamo diciamo trascorrere un certo periodo sarebbe chiedere al comandante Moretti che è andato a Roma eh qual è la differenza come si trova rispetto ad Ostia ne sa qualcosa abbiamo parlato però so che per un periodo sarà qua vero? ancora? sarà e mi sostituirà nel periodo in cui sarò in ferie con 15 giorni e quindi sicuramente visto la sua ottima e grande esperienza di Ostia sarà un ritorno alle origini sicuramente ho scelto un ottimo sostituto per questo breve periodo eh certo questo farà piacere anche ai nostri concittadini che l'hanno conosciuto il comandante che è stato un bel po' qui sicuramente bene 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 grazie a Giovanni Mancini grazie a Roberto Stefano grazie a voi per quello che fate per la collaborazione che abbiamo che ci permettete di trasmettere alcune delle nostre informazioni alla gente quindi è importante avere questo rapporto certo perché così vi conoscono meglio i cittadini non solo dal punto di vista della divisa o dell'eventuale multa ma insomma c'è molto di più dietro fa parte del nostro lavoro fa parte del vostro è il vostro lavoro anche quello certo assolutamente e siamo qui col Tg dal mare proprio per farvelo raccontare io mi auguro davvero che sia un'ottima estate anche da questo punto di vista dal punto di vista del vostro lavoro perché significa che tutto va meglio per la città un augurio che noi sentiamo a tutti i cittadini di Ostia e di Roma venite da Ostia siamo fiduciosi siamo fiduciosi senza ecco questo è un bel messaggio siamo fiduciosi e poi come dice Mancini venite a Ostia perché da tutta la regione ci stanno seguendo col Tg dal mare quindi li invitiamo qui grazie a comandante Roberto Stefano al vice comandante Giovanni Mancini appuntamento ad un altro Tg dal mare qui dal Venezia arrivederci dallo stabilimento balneare il Venezia A presto 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 A presto